Si chiama Progetto Interregionale per la lotta al tumore dalla prevenzione al fine vita, l'iniziativa proposta da Fondazione Ant grazie al contributo di Fondazione con il Sud. Fino al 2027 saranno avviati in Campania, ma anche in Puglia, in Sardegna e in Basilicata, servizi gratuiti per la cittadinanza, quali l'assistenza psicologica per i pazienti oncologici e familiari, 4.200 visite di prevenzione, 16 corsi di formazione e laboratori esperenziali per i caregiver, oltre a una serie di incontri con 700 studenti. A illustrare l'iniziativa dalla Sala della Loggia del Maschio Angioino a Napoli, Raffaele Messina, coordinatore territoriale della Fondazione Ant. In questo progetto cerchiamo proprio di dare potenza e maggior importanza ad azioni che probabilmente normalmente vengono un attimino sottovalutate, a partire dalla prevenzione oncologica che verrà offerta gratuitamente ai cittadini di queste quattro regioni, fino ad arrivare all'assistenza psicologica che sarà allargata ai pazienti oncologici sin dal riscontro della malattia fino al fine vita, sia ai pazienti che ai loro familiari e ai caregiver. È un'attività specifica dedicata proprio alla figura del caregiver, al quale offriremo gratuitamente dei corsi di formazione per imparare a gestire il paziente, ma anche per imparare a gestire le dinamiche della propria vita lavorativa, sociale e familiare, al quale poi verranno affiancati dei laboratori esperienziali proprio per gestire il carico emotivo che in questo percorso di cura e di malattia viene affrontato dalla figura del caregiver. Un'ulteriore attività è quella dedicata alle scuole, nei quali offriremo attività di prevenzione primaria, quindi azioni di informazione sui corretti stili di vita, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista ambientale.